ragazze buongiorno oggi sono più confusa che persuasa intanto aggiorniamo il calendario auguri a mia figlia che fa un mese di matrimonio allora sono più confusa che persuasa perché devo pulire qui il balcone dove ho dipinto nonostante io abbia messo la carta il cartone questa vernice spruzzo si infila ovunque e ancora devo fare la cucina sono le 11 e mezza quasi e sono più confusa che persuasa perché ho mille cose da fare allora intanto è entrato queste lanterne guardate come sono ridotte per la pioggia e le devo spruzzare e mi vengono nuove qui c'è un vetro che si è tolto da una poi mi sono presa questo pezzo di cartone perché in queste lanterne c'è il vetro giustamente il vetro non lo posso spruzzare cioè la vernice non la posso spruzzare nel vetro quindi lo devo proteggere vediamo faccio qualche quadrato di cartone e quindi mi spruzzo queste cose poi vi volevo fare vedere che ieri mi sono presa questo a lidl allora questo è uno spray acciaio brillante io ancora non l'ho provato e quindi l'ho comprato guardate c'è pure la cappa in acciaio io la odio questa cappa in acciaio ma comunque quindi per fare le cose in acciaio quindi piano cottura lavello e vediamo com'è e poi per esempio volevo prendere il wc quello con candeggina che io spruzzo di solito ovunque anche negli indumenti quando c'è qualche macchia e poi la metto in lavatrice non c'era poi mi sono preso il mio solito mocio quindi ancora questo lo devo montare e poi vi volevo fare vedere che mi sono comprata ieri due tubi di tintura intanto guardate il mobiluccio che bello bianco allora ieri mi sono comprata due tubi di colore perché ho i capelli ragazze dopo un mese mi riduco proprio male male allora mi sono comprata il castano modano è il castano scuro eccolo qua castano mogano è il castano scuro io faccio tutta la base dove ci sono tutti i capelli bianchi col castano scuro quando poi devo passare alle lunghezze mischio un pochino di questo castano mogano bene mi hanno dato in omaggio con con queste tinture questa scatolina vedete perché i prodotti sono le tinture sono vital care mi hanno dato questo omaggio che conteneva tutti questi campioncini allora c'è questa qua che è una maschera maschera flash un minuto quindi non vedo l'ora di provarla questo credo che sia lo shampoo quindi questo è lo shampoo e poi abbiamo un siero che è questo qua e poi abbiamo un ristrutturante per i capelli quindi questi appena faccio il colore li utilizzo tutti vediamo come sono sto facendo una lavatrice che ha quasi finito delle cose bianche perché ho cambiato le lenzuola come ogni sabato poi stamattina ho perso un sacco di tempo perché ho riempito tutto questo mobiluccio con gli asciugamani e veramente ne ho tanti un paio li ho buttati perché proprio sono tantissimi guardate quanti asciugamani che ho perché io quando li vedo compro sempre perché appena mi diventano un pochino duri non mi piacciono più e li butto e poi che cosa ho fatto tutti questi asciugamani io le avevo le avevo messi qua in questo mobile dell'ikea giusto siccome ora li ho passati la sto mettendo un pochino di tovaglie di tavola perché i cassetti della cucina sono pieni pieni di queste tovaglie e quindi le sto mettendo qua quindi per questo mi sento confusa perché ho fatto per ora tante cose ma in realtà ancora guardate devo fare pure la cucina perché giustamente facendo questi spostamenti faccio faccio ma non ho fatto niente ragazze mi sto lavando questa blusa della via rose che ogni volta me la metto e subito la devo lavare poi vi faccio vedere il look di oggi del letto c'è maia che dorme naturalmente allora oggi ho voluto mettere sotto ho messo il il giroletto di blanc mariclo e poi sopra ho messo questo delizioso copriletto che ho comprato sempre dal mitico amico pazzo del corredo guardate che bello è molto provenzale molto sciabbio vedete ci sono i cuori così in rilievo e poi tutto questo bordo con questi fiori che è un amore qui c'è maia il capolavoro il mio capolavoro e quindi questo è il look di oggi quindi sotto il giroletto blanc mariclo e sopra questo copriletto poi in cameretta ho tutta questa roba da stirare che naturalmente aspetterò la lavatrice di oggi con le lenzuola e quindi così poi stiro tutte cose allo stand di biancheria già è aperto pronto ragazze il mare non vi dico considerate che lo chef se ne è andato proprio a mare non in spiaggia ma si è messo nelle panchine per prendersi un pochino di sole il sole è caldo proprio per il fatto che ha avuto mal di schiena ma mi ha detto che tutta la spiaggia si sta riempiendo di bagnanti di gente come se fosse agosto che si fa il bagno che si prende il sole è una cosa spettacolare il mare veramente ah poi vi volevo fare vedere un'altra cosa allora ieri sono andata a lidl e appunto vi ho fatto vedere lo straccio vi ho fatto vedere il v5 e poi cercavo i fiori allora c'era qualche mazzolino di roselline ragazze ma non li ho prese perché erano piccole come dire rinsecchite quindi per non prenderle io figuratevi però vi volevo consigliare se avete voglia di comprare piante di comprare un po di verde e di farvi un po di angoli verdi appunto a casa andateci perché c'erano delle bellissime piante allora i prezzi andavano da 6,90 a 7,90 le più care poi ce n'erano da 3 c'erano piante grasse con il suo portapiante in ceramica vi dico c'era davvero da sbizzarrirsi considerate che tutte queste piante che ho io questa guardate questa come sta crescendo bene questa è una mustera tra poco dovrò cambiarci il vaso poi ci sono queste queste si chiamano caca non mi ricordo più non mi ricordo però di queste ne ho tre una qui una lì e una in bagno poi questa è pure dell'idl quindi ragazze diciamo che fanno una buona riuscita questa è pure dell'idl queste foglie qua sono tutte nuove queste due sono bellissime questa mi è stata regalata ma secondo me è stata acquistata pur all'idl perché l'ho vista e ieri non all'idl ma al conad siccome in questa scaletta tutta di potos mi mancava qualche scaffale vi faccio vedere guardate che bellina ho preso questo potos piccolo piccolo guardate che dolcezza questo è costato 2 euro e 99 un ottimo vi faccio vedere il prezzo perché c'è ancora allora questa è costata 2 euro e 99 però questa l'ho presa al conad non l'ho presa al lidl ma l'ho presa al conad e quindi un altro scaffale si è riempito perché vedete qua è una specie di scaletta con tutti i potos mi mancava uno scaffale e l'ho riempito in realtà ce ne vorrebbe un'altra da mettere qua a poco a poco ma vi ripeto se avete voglia di comprare un po di verde di farvi una giungla urbana andate è il momento buono per comprare le piante al lidl allora bimbe ho pulito il balcone perché c'erano quei residui di vernice ho dato una passata pure qua perché vuoi o non vuoi si sono fatte le pedate a che punto sono? vi faccio vedere come è venuto il lavello e il piano cottura con il prodotto V5 allora vi devo dire che non grido al miracolo però secondo me perché io odio appunto queste strisce gli aloni però c'è un discorso io quando finisco di pulire e sciacquare appunto il piano cottura e il lavello dovrei asciugarlo perché molte di voi lo asciugano io questo passaggio non lo faccio quindi sicuramente se avessi passato poi una pezza asciutta tutti questi aloni non sarebbero venuti comunque non è male questo è il lavello come vedete è bello lucido considerate che il mio lavello è di un acciaio piuttosto opaco non è lucido comunque lo devo riprovare e poi lo asciugo poi che cosa ho fatto? le lanterne ancora sono qua ancora le devo fare ho pulito il bagno vediamo se c'è bagnato perché ho riempito il secchio sì ho fatto la doccia bella pulita con questo prodotto V5 sempre per il calcare ho fatto oggi pure le mattonelle lì c'è una tovaglia bianca che è rimasta con qualche alone e quindi l'ho messo in acqua con candeggina sto facendo un'altra lavatrice con i tappeti tappeto bagno e tappeto cucina tutta l'altra roba l'ho stesa e niente ora mi faccio tutta la zona la zona pranzo e la zona cucina non ne passo straccio in tutta la casa perché l'ho fatto giovedì mi sono stesa tutte cose la prima lavatrice con tutto il bianco eccolo qua la blusa l'ho stesa quella della Vien Rose ho messo una bacinella sotto perché mi gocciola giustamente perché è strizzata con le mani è strizzata un po' in maniera delicata niente qua ci sono le cose che devo stirare ragazze che cosa non vi dico altro vi saluto da una bianca una bianca sì ragazze e chi se la scorda vi saluto con una maia assonnata che si stiracchia nel mio letto e niente ragazze nel pomeriggio non lo so se mi faccio il colore se dovessi decidermi a farmi il colore vi vorrei fare un video carino come dire un prima e dopo farmi vedere con questi capelli che sono un disastro bianchi e poi vi devo dire ragazze quando io faccio il colore il capello è una cosa strana sarà appunto i prodotti ingredienti che ormai contengono il capello mi viene bellissimo sembrano i capelli sembrano di più rimpolpati e compatti belli più forti quando invece il colore poi dopo un mesetto è tutto sviadito ci sono i miei capelli bianchi il capello è più crespo perde subito la piega quindi proprio il colore lo trovo un vero e proprio trattamento di bellezza per i capelli quindi vi vorrei fare vedere come sono ora quindi col capello un disastro perché appunto a parte i capelli bianchi è proprio brutto crespo che non mi tiene la piega e tutto quanto e poi appunto invece vi vorrei fare vedere con il colore con il trucco e tutto quanto diciamo una specie di prima e dopo fra l'altro mercoledì 18 ho già appuntamento con la mia parrucchiera perché li voglio tagliare l'altra volta sono andata appunto ho detto di tagliarmi ma me ne ha tagliato pochissimo quindi tutta questa lunghezza che ho dietro la voglio eliminare voglio fare un bel taglio a scala è più cortino ok ragazzi allora dopo tutte queste chiacchiere io vi saluto tra poco viene lo chef e mi porterà la spesa come sempre e niente ragazze io intanto vi saluto poi nel pomeriggio appunto se voglio fare un video del genere ve lo faccio intanto vi abbraccio e tanti baci e quindi